Un cordiale saluto ai telespettatori di Telerama e anche a quelli di Telesalento che ci seguono nelle repliche per un'altra puntata di Controvento. Come sempre in questo nostro spazio andiamo avanti con l'approfondimento intorno alle tematiche che riguardano il nostro territorio, il Salento, le province di Lecce, Brindisi e Taranto, seguendo quella linea editoriale che ormai dal lontano 2005-2006 è stata elaborata dal Presidente Paolo Pagliaro, quello delle battaglie di Telerama per la crescita del Salento. Il tentativo di fare un'informazione militante che oltre a dare le notizie, fare le inchieste, approfondire, tenta di dare anche una traccia di soluzione ai tanti problemi, di essere di stimolo alla classe politica che decide, quella che fa le leggi del Parlamento, al Governo che opera, ma anche alla Regione che ha la capacità di fare leggi ma anche di gestire i denari che arrivano dall'Europa, quindi ha questo grosso potere con lo svuotamento delle province, peraltro i nostri tanti comuni sono restati senza un coordinamento e sono invece il front office dello Stato sul territorio a cui il cittadino si rivolge, spesso non riescono a far fronte a tutte le problematiche. Un'azione comune può tentare forse, anche grazie all'informazione militante del nostro gruppo, di mettere in relazione i primi cittadini con i loro cittadini ancora di più e soprattutto con il potere politico gestionale nazionale e regionale. Questa è la nostra linea editoriale e ne parliamo oggi con il sindaco di Soleto, Graziano Vantaggiato, grazie di essere con noi, l'assessore di Porto Cesario Pasquale De Monte, un saluto anche all'ex sindaco consigliere comunale di italiano, Fernando Leone e al sindaco di Cannone, Leandro Rubichi. Buonasera. Allora, il Salento, terra meravigliosa, sindaco vantaggiato, una terra che è di moda peraltro, da una parte le case cinematografiche scelgono il Salento come set e quindi portano il nostro Salento in giro per il mondo con le pellicole. In generale tutti vogliono venire nel Salento, da Madonna al Presidente degli Stati Uniti, tutti vogliono arrivare nella nostra terra, però poi il Salento ha mille problematiche che non riesce a risolvere e ne parliamo ormai da decenni. Io penso all'affare della strada 275 che è la più eclatante, ma anche a quelle ferrovie che non funzionano, anche a chi programma lo sviluppo andandoci a posizionare prima la centrale a carbone di Cerano, poi le paleolite fotovoltaico, in passato anche il Vital Cedar che ancora dobbiamo subire, ma ancora continuano con le trivelle, con le condotte del gas. Qualcuno parla da vetrana di un probabile possibile futuro deposito di scorie radioattive nucleari, insomma è possibile che la classe politica non riesca ad arginare e a orientare lo sviluppo del Salento sul turismo, cultura, agricoltura, quelli che sono i nostri punti di forza e cosa possono fare i piccoli comuni magari messi assieme per dare questa linea a chi governa, a chi decide? Salento terra bellissima, ha detto lei, i problemi sono molteplici, molti problemi sono anche causati da chi ci abita nel Salento. Vedi l'abbandono dei rifiuti in tutte le strade provinciali, nelle strade statali, quello è un problema serio, è un problema che i cittadini salentini non riescono o non vogliono di fatto risolvere perché si pulisce la mattina per poi essere sporcati nuovamente la sera e questo fa parte della nostra cultura, di questa cultura che non rispettiamo il nostro ambiente e di fatto non rispettiamo il prossimo, non rispettiamo noi stessi. È chiaro che se un cittadino si comporta in questo modo, la classe politica, i nostri dirigenti nazionali ne approfittano, di fatto pensano che i nostri territori sono territori di conquista e anche le candidature fatte per le prossime elezioni politiche, la dicono lunga di questo, gente catapultata sul nostro territorio che non conosce il territorio che vengono qui a prendere un posto. Questo c'è sempre stato, io ricordo i famosi collegi sicuri della democrazia cristiana, penso a Tricase, insomma questo c'è sempre stato, però di fatto chi ci rappresenta sindaco, i nostri deputati e consigli regionali sono di questa terra, quindi conoscono i problemi e vivono come noi probabilmente. Non molti, non molti sono di qua, anzi spesso e volentieri, ripeto, in passato è successo, ma la politica deve andare avanti, non può ritornare al passato, si deve andare avanti e andare avanti significa migliorare, migliorare dove nel passato hanno sbagliato. Se scelte i nostri rappresentanti, indipendentemente dai colori politici, perché qui è un problema prettamente trasversale, decidono di impiantare una infrastruttura come TAP senza andare a chiedere il Consiglio ai territori, ai rappresentanti dei territori, è chiaro che qui c'è un problema serio, c'è un problema serio di rappresentatività. Non solo TAP, non ce ne saranno altri gasdotti pronti a Otranto e poi nella zona del nord, del litorale del Cese, quindi insomma ce n'è più di uno. Diciamo che il Salento, perché parliamo di Salento, in una sostanza è divenuta una terra di conquista, dove i capitani di ventura, capitani di imprese vedono il nostro territorio come un'opportunità, dove vengono, approfittano del territorio e si portano via i profitti lasciandoci poi a noi tutti i problemi. È chiaro che noi, io parlo per la mia comunità, ma credo di poter rappresentare al meglio le istanze anche dei miei colleghi sindaci. Noi siamo spesso e volentieri lasciati soli, abbandonati sul nostro territorio, i quali più delle volte dobbiamo rispondere all'istanza dei nostri cittadini con grande difficoltà. Diciamo che negli ultimi tempi la regione, perché le province ormai di fatto sono state disarmate, la regione bene o male è alquanto vicina ai nostri territori. È chiaro che la regione parte da Santa Maria di Leuca, arriva a Foggia e molto spesso, alcune volte, non sono precisamente attenti, anche se ultimamente la regione sta dando delle risposte. Da tempo c'è una rivendicazione territoriale per una regione Salento un po' più vicina, una regione di prossimità, in una riorganizzazione complessiva, però più, ripeto, in generale c'è il problema di una classe politica che spesso lascia che le leggi vengano fatte, le norme, le direttive, le decisioni vengano prese sulla testa dei cittadini amministrati, come diceva lei, per le condotte, ma non solo. Io adesso ho paura delle trivelle, nonostante le mobilitazioni, fra qualche tempo ci troveremo le trivelle nei nostri mari, che è la cosa più bella che abbiamo, assieme all'entroterra, ma il mare è l'attrattiva principale, anzi due mari, siamo la terra dei due mari e purtroppo probabilmente chi decide al governo, scavalcando i territori e forse anche le regioni, arriverà a portarci le trivelle. Fernando Leone è un problema di cortocircuito della politica che non funziona, dei partiti che non sono più quella cinghia di trasmissione di un tempo, di una classe politica che pensa più alle proprie poltrone, alle proprie indennità, alle buone uscite, alle pensioni, ai propri privilegi, piuttosto che al cittadino che li ha eletti, che li ha espressi e anche ai primi cittadini che dovrebbero essere incollanti anche tra cittadino e istituzioni superiori. Molte volte ci si chiede, ci si meraviglia del grande successo che il Salento ha, ora girare per l'Italia, dire che di essere salentini, di essere leccesi è un orgoglio, se fino a decenni fa nemmeno sapevano cos'era il Salento, ora giri per l'Italia. Ci confondevano col Cilento, adesso per fortuna non è più così. Però poi ti stupisci come è possibile, se da una parte il Salento è ormai una meta ambita da tutti per il turismo, poi dall'altra parte possano succedere tutte queste cose. Io personalmente, tre o quattro anni fa, ho fatto il presidente dell'Unione dei Comuni del nord Salento, avevo raccolto, ho fatto un grande archivio di tutto quello che rappresentavano gli sforamenti delle polveri sottili provocate da Cerano, ho raccolto materiale, avevamo fatto un dossier, abbiamo consegnato alla Procura della Repubblica, ma naturalmente si sapeva già che non sarebbe successo niente, così come non è successo niente, perché questi grossi interessi passano al di sopra delle nostre teste e quindi alla fine va a finire che gli sforamenti alla Verrana erano colpa dei cammini, dei cammini domestici, e quindi tutto ciò ti fa rabbia quando anche sei il primo cittadino, così come io ho fatto il sindaco per nove anni, molte volte ti senti inerme davanti a queste cose e ti dispiace, ti dispiace pensare a Cerano, alle paleoliche, ai rifiuti interrati, altra problematica che sicuramente ci investe anche quella e poi non ci stupiamo se poi d'altra parte si registrano alcuni dati che è meglio non sentire, non vedere, perché poi dobbiamo rendere attrattivo il salento e quindi certi dati che purtroppo ci appartengono è meglio non... Sarebbe stato meglio non determinare questi fatti invece che nascondere i dati, perché poi andiamo magari a bere l'acqua, a mangiare la verdura e non sappiamo con che acqua è verificato il campo da cui proviene quella che sembra verdura che fa bene, che potrebbe fare ancora peggio, lì è stato sindaco per nove anni, consigliere comunale, ha una lunga militanza politica, quindi ha avuto rapporti con parlamentari, consigliere regionali abbastanza stretti, vicini, come tutti i sindaci che si rapportano con le istituzioni, di questo si parla, cioè come è che poi non si uccise? Si arriva già a giochi fatti, a conoscere determinate decisioni già a giochi fatti, anche la problematica insieme a dieci anni fa, i parchi olici, la famosa legge di vendola che poi fu di fatto dichiarata incostituzionale dal Consiglio di Stato, che ci vide praticamente poi investiti dei parchi olici, delle paleoliche eccetera, ma generalmente noi sindaci subiamo queste decisioni che vengono da lontano senza poter incidere, molte volte poi bisogna, così come abbiamo fatto per la tappa, combattere, ma in più delle volte poi... Quando ormai i giochi sono fatti, i giochi sono fatti e quindi poi si resta in erno davanti. Io ricordo quando ovviamente tutti vorremmo paleoliche e pannelli fotovoltaici nelle aree industriali, sui tetti degli edifici, tentare di allontanarci dal carbone, dagli inquinanti e avere un'energia pulita. L'idea poteva essere buona, fu attuata malissimo, fumo sommersi soprattutto nei campi, da progetti, alcuni per fortuna non andati a buon fine, poi in ritardo come sempre la politica interviene e chiude poi il cancello, come si dice, quando i boi sono scappati. Con altri danni, poi fra l'altro, perché nel mio paese ce ne sono 15 campi fotovoltaici e se all'inizio poteva essere anche un'attività redditizia, poi dopo alla fine hanno fatto in modo pure che le rendite catastali, di abbassarle e alla fine non si riesce nemmeno più ad avere quel beneficio che per pochi anni siamo riusciti ad avere. Pasquale De Monte, assessore del Comune di Porto Cesario, anche voi terra bellissima, di mare, di turismo, parco, però avete tanti problemi, avete l'ILVA che fa arrivare le bambini sottili dal Porto Cesario, ma anche Cerano, addirittura sappiamo che questi inquinanti arrivano al Capo di Leuca, quindi al di là della distanza con i venti forti che spesso imperversano nel Salento si arriva addirittura al Capo di Leuca da Taranto, quindi insomma problematiche serie che poi vanno a scontrarsi con quell'azione di riorganizzazione del territorio che state facendo per evitare per esempio gli scarichi a mare, per tentare di sistemare il discorso degli scarichi fognari e delle fognature, quindi di rendere sempre più attrattivo il nostro territorio, poi andate a cozzare contro questi problemi che non dipendono da noi, da voi, da noi cittadini, da voi amministratori dei comuni e che arrivano da altrove, da scelte fatte magari in modo sbagliato. Diciamo che Porto Cesario tutto sommato è un paese che nasce come entità autonoma nel 1976, quindi a pochi decenni e quindi abbiamo cercato in questi anni tutte quante le amministrazioni che ci sono succedute, ma anche i comitati civici, di poter organizzare il comune, di poter organizzare un attimo tutto quanto il nostro feudo che è schiacciato poi dalla ex strada statale e che quindi diciamo è compresso fra il territorio di Nardò e quella nostra piccola fetta di territorio. Diciamo che con l'istituzione dell'area marina protetta noi abbiamo fatto un grosso balzo in avanti perché nel 97 finalmente anche su impulso del professor Parenzan, beniamato professor Parenzan, finalmente venne dato un input serio nella gestione e comunque nella salvaguarda delle risorse ambientali. D'altro canto... C'è stato purtroppo preda di un abusivismo edilizio che ha danneggiato molta buona parte del territorio in passato, no? Diciamo sì, tenendo presente che il piano regolatore generale di Nardò, che è stato vigente fino a pochi anni addietro, consentiva l'edificazione in zone che adesso sarebbero protettissime, quindi non abbiamo zone edificate a Torriarapillo o sulle dune che erano ai tempi di Nardò, le 74 in poi, zone edificatorie, zona B. Il problema di volto decisare sicuramente è quello della salvaguardia ambientale, salvaguardia di quello che è rimasto, ma soprattutto risanamento. Quindi noi ci stiamo muovendo in una duplice ottica, quella intanto di recuperare tutte queste zone che sono state sfruttamento dell'abusivismo e che hanno necessità di un risanamento. D'altro canto, a attuare un discorso di risanamento ambientale, per il quale abbiamo avuto un grosso finanziamento adesso, perché eravamo peraltro stati vittima di una infrazione comunitaria, per il quale si sta lavorando lacrimente, perché tutto il territorio sia poi dotato, munito di una fogna e che quindi tutti i reflui siano poi trasportati presso un depuratore cittadino. Questo è l'impegno attuale, diciamo che sarebbe il fiore all'occhiello, ma comunque il punto dolente che deve essere risolto affinché poi Porto Cesario possa da qui attuare una politica diversa di sviluppo e di sistemazione urbanistica e anche edilizia. Sindaco Rubichi, Deandro Rubichi, quando si pensa a Cannole si pensa a Torcito, a proposito di ambiente, a questo bel contenitore che purtroppo sta andando, stava andando in rovina, abbandonato a se stesso, un grande progetto ambizioso tra i comuni e la provincia che non è andato a buon fine e che adesso sta tentando di rimettere sulla retta via. A proposito di ambiente non si può non citare questo grosso impegno nel vostro territorio. Certo, mi ricordo che comunque il parco Torcito è un parco di circa 230 ettari con annesse masserie ed è di proprietà della provincia di Lecce, però ricade sul territorio di Cannole. Questo parco ormai era stato, diciamo, nel 2013 c'era stato un finanziamento per poterlo recuperare, però la ditta, il gruppo Entini di Noci, una volta iniziati i lavori, ha commesso degli abusi, degli abusi in zona a vincolo paesaggistico e idrogeologico, poi è intervenuta la procura e ha bloccato tutto. Il finanziamento così era fermo, stava andando innegrato tutto, le masserie stesse erano soggette ad atti vandalici da tante persone e quando poi ormai si stavano perdendo le speranze, i soldi, i finanziamenti regionali comunitari si stavano per perdere. Poi quest'estate abbiamo convocato tutte le istituzioni ad un tavolo in un'udienza in piazza, abbiamo fatto, c'erano tutte le forze politiche, tutti i rappresentanti della Regione Puglia, da tutti i partiti, i rappresentanti della provincia e un bel gruppo di sindaci che in quel momento hanno avuto la solidarietà di stare a fianco a me per lottare, per cercare di recuperare questo grosso finanziamento. Il finanziamento poi la Giunta regionale ha fatto una delibera in ottobre del 2017 e ha accertato questa somma di quasi 5 milioni di euro per poter recuperare quel vecchio progetto. Ovviamente però bisogna recuperare quell'abuso che c'è stato, questi soldi che servono per recuperare quel tratto di abuso non possono essere presi dai 4 milioni e 900 mila euro, quasi 5 milioni, ma sono risorse che deve mettere a disposizione la provincia che ha attivato tutte le buone pratiche per poter recuperare questi soldi da una polizia fedegliussoria che aveva la società Intini e quindi adesso, proprio ieri, abbiamo fatto un tavolo tecnico in provincia e stanno cercando di recuperare questi soldi, qualcosa l'hanno già recuperato anche se non tutti, questi soldi che comunque serviranno per ripristinare lo stato dei luoghi e devo dire che la procura stesso, la provincia molto attiva in questa fase sta dando da fare e stiamo recuperando parecchio tempo perso. C'è la disponibilità anche da parte della sovintendenza per cercare di dare una spinta per portare avanti questo progetto. La situazione adesso si trova a buon punto, abbiamo condiviso un progetto così, su larghe linee, prima c'era un progetto di circa 600 mila euro per poter ripristinare tutto, per poter recuperare quell'abuso che era stato fatto. Adesso, dopo quattro anni, diciamo che la natura si è preso quasi tutto e quindi non bisogna più utilizzare tutte queste risorse, quindi con poco riusciremo a recuperare quello che si è stato tolto e quindi veramente siamo ottimisti che da qui a breve riusciamo a recuperare quella parte di abuso fatta e compatibilmente con quello poi far partire l'altro progetto. Una guerra infinita per un bene che potrebbe essere fluido già dai cittadini, anzi poteva essere fluido da tempo, come vedete, burocrazia, anche forse il fatto che il territorio è slegato di chi è la competenza, del Comune di Canno e di tutti i comuni del circondario che hanno quel bene, lo consigliano un loro bene, della provincia che è stata svuotata per alto di competenze e di denari, della regione, vedete, la sovintendenza, si vanno a intercanalare mille problematiche e alla fine poi è difficile uscirne. Sì, ci sono delle situazioni che potevano essere risolte in poco tempo, invece ti chiedono tempi lunghissimi, proprio per la burocrazia che c'è, bisogna rispettare tutte le istituzioni, tutti gli enti, per forza, tanti passaggi, veramente intanto la continua a stare in uno di degrado, a rimanere in uno stato di degrado e magari se con 2 milioni possiamo recuperare le masserie, se aspettiamo un altro poco magari ne serviranno 4 e poi quel monte di 5 milioni non riusciremo a fare tutti i lavori che servono per recuperare tutto. Questi sono i problemi veri del Salento, non quelli che spesso sentiamo nelle cronache della politica. Ecco, questa è l'informazione di Telerama, di Telesalento, del gruppo di Telerama, quello di fare un'informazione meditante che tenti di affrontare queste tematiche e di trovare anche delle soluzioni, sempre nell'interesse del territorio e dei cittadini. Ci fermiamo un attimo, breve pausa pubblicitaria.